Ciao a tutti ragazzi, sono Adumio in real life Yuri e questo è tra virgolette il video ufficiale di apertura del mio canale e avevo appunto intenzione di aprirlo circa 6 mesi fa ma non ho avuto mai il tempo necessario per dare continuità al progetto che dire, vedrete gameplay commentati o piccoli montaggi specialmente di RPG infatti ora in background dovrebbe esserci un gameplay di Skyrim e quando finirò di parlare ci saranno alcune clip di Dark Souls cercherò di essere il più professionale possibile ma so che la mia indole cazzeggiatrice avrà la meglio su di me che altro dire, godetevi Dark Souls, alla prossima iscriviti al canale 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 iscriviti al canale